Non c'è pace per John Travolta, colpito da un altro terribile lutto a pochi mesi dalla morte della moglie Kelly Preston. L'attore ha perso anche il nipote Sam Travolta Junior, figlio di suo fratello maggiore Sam. L'uomo di professione sceneggiatore è morto all'età di 52 anni per cause che non sono ancora state rese pubbliche. La notizia del decesso è stata svelata dal tabloid inglese The Sun con alcune settimane di ritardo. Risulta infatti che l'uomo si è deceduto lo scorso 23 settembre. Sembra che il divo fosse molto vicino al nipote che nel 2015 aveva confessato come lo zio lo aiutasse economicamente. Si era definito un piccolo sceneggiatore in difficoltà. Il padre Sam Travolta è apparso come attore in alcuni piccoli ruoli ed è stato assistente del fratello John in svariati film come Senti chi parla adesso.